La Golden Lady si impegnerà a trovare un'occupazione a tutti i lavoratori dello stabilimento Omsa di Faenza e di assegnare incentivi economici all'uscita. Sono alcuni dei punti del verbale di accordo firmato ieri al Ministero dello Sviluppo Economico da Regione Emilia-Romagna, Comuni di Faenza, Direzione Golden Lady, Provincia e Confindustria di Ravenna e i rappresentanti sindacali. Nel documento l'azienda ha premesso che l'ipotesi di reindustrializzazione avanzata lo scorso 22 dicembre si presenta più complessa e incerta di quanto l'azienda stessa ha descritto alle parti e alle istituzioni. Da qui l'impegno a nuove soluzioni. La Golden Lady avvierà una concreta e immediata azione di ricerca delle soluzioni imprenditoriali, si legge nel verbale, che diano occupazione a tutti i lavoratori e lavoratrici dell'Omsa di Faenza. Contemporaneamente scatteranno gli incentivi all'esodo. Da un lato 30.000 euro lordi per ciascun lavoratore e per un massimo di 80 dipendenti, che dichiareranno entro il 12 marzo di non opporsi alla risoluzione del contratto e alla mobilità. Infine l'azienda manterrà la produzione ancora presente nello stabilimento faentino, a fronte di soluzioni imprenditoriali che saranno costruite nei prossimi mesi. È un accordo positivo che segue una trattativa molto complessa e difficile, ha commentato il Presidente regionale Vasco Errani. Ora si apre una fase nuova di impegno per tutti i firmatari, ha aggiunto, per affrontare le due questioni più importanti, il problema occupazionale e la reindustrializzazione del sito.